Si celebra oggi la quinta giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, un'iniziativa istituita dall'Unione Nazionale delle Proloco per ricordare l'importanza culturale storica dei dialetti e di intraprendere azioni concrete per salvaguardarli. Contare i dialetti in Italia è veramente difficile, così come è difficile tracciare il confine tra un dialetto e l'altro, ma gli studiosi che ci hanno provato sono arrivati a contare più di 6.000 lingue locali. Ogni paese ha i suoi idiomi, i suoi accenti più o meno condizionati dalle realtà vicine. Certo è che in Irpina ogni paese ha una sua particolare inflessione che spesso è difficile da percepire. Nel momento in cui si tende ad avere tutti lo stesso linguaggio, quindi a comunicare in modo universale, riscoprire invece quelle che sono le peculiarità e quelle che sono le caratteristiche specifiche di un luogo, di una piccola comunità, secondo me è molto importante perché fa da contrappeso. Guardiamo al futuro ma non possiamo dimenticare il passato. Sarebbe bello innanzitutto che tutti conoscessero l'italiano, però imparassero l'inglese, però riuscissero anche a comprendere e a parlare, a conservare quei termini dialettali che sono poi il nostro DNA. Però fino adesso ha parlato in italiano? Eh, ha già cominciato a parlare dialetta, ha già fanno corse. Ci sono delle espressioni che sono così forti e così immediate che riescono a rendere di più di un discorso molto lungo e molto articolato. Faccio un esempio di un proverbio che mi viene a mente adesso, la ciuccia buona si vede alla sagliuta. Cioè praticamente nelle difficoltà che si riesce a vedere le qualità di una persona o di una cosa, non nella situazione facile. Quando sta neve che se non arriva a Santo Lebrador, la vannata non è sciuta fuori. E' più sicuro quando torno nel Mediatur, che sarebbe a giugno, e a austria capo di verno e quindi di conseguenza noi l'estate italiano avremo poco e niente.